Alla sequela di Gesù si è resa testimone credibile di carità e di perdono fino all'effusione del sangue. Sor Maria Laura Mainetti, al secolo Teresina Elsa, religiosa della congregazione delle figlie della croce, è stata elevata alla gloria degli altari con il rito di beatificazione celebrato a Chiavenna, la località in provincia di Sondrio, dove il 6 giugno del 2000 venne barbaramente uccisa da tre ragazze, istigate da una setta satanica. Mentre infirivano su di lei con pietre e coltelli, Sor Laura perdonava e pregava per loro. La sua tragica morte suggellò la fama di santità che l'aveva accompagnata durante la vita come educatrice, religiosa esemplare, attenta ai bisogni del prossimo. Nel giugno dello scorso anno, Papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto di riconoscimento del suo martirio. Quante vocazioni di uomini e di donne ancora oggi immolano vite giovani e fiorenti all'esercizio e alla testimonianza della carità. Ecco la beata Maria Laura Mainetti che invocò dal Signore la vera carità. E' una di queste testimoni, anzi è martire. Sor Maria Laura da oggi è un modello ufficiale di una vita spesa per gli altri, di servizio, di disponibilità, di impegno. Grazie mille, grazie mille, grazie mille.